Buongiorno ragazzi, come state? Tutto a posto? Allora, oggi facciamo capitolo 11 Pericolo, intralascio, intralascio alla circolazione, regolazione, i limiti di velocità, ok? Iniziamo subito, prima di iniziare iscrivetevi al mio YouTube canale, così facciamo tutti gli argomenti uno per uno Abbiamo fatto da 1 fino a 11 Adesso e dopo facciamo ancora quelle che sono rimaste, ok? Ok, grazie per quelli che mi seguono, grazie ragazzi, allora andiamo Il limite massimo di velocità per un'autovettura su qualsiasi autostrada è 150, falso In autostrada è qualsiasi falso, perché in autostrada ordinariamente sempre deve essere 130, ok? Il limite massimo di velocità sull'autostrada è di 80 km per l'autovettura con rimorchi Autovettura con rimorchi, 80 km orari, vero? Ai passaggi a livello, occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino la collezione con la barriera del passaggio stesso, vero? Perché noi dobbiamo, sta dicendo ai passaggi a livelli, occorre usare la massima prudenza Dobbiamo utilizzare la massima prudenza e dobbiamo ridurre la velocità per evitare situazioni di pericolo, ok? Che comportino, che può essere o può causarne la collezione con la barriera del passaggio stesso, vero? Si deve regolare la velocità in base allo stato di manutenzione e pulizia della strada Stato della pulizia della strada Pulizia Vero, è perché se la strada è cattiva e noi dobbiamo regolare la velocità di band, è vero, eh? Si deve diminuire la velocità quando si è seguito da un autobus di linea, perché? Cosa ha detto? Allora, i limiti massimi di velocità per un autoveicolo fino a 3.5 tonnellate sull'autostrada è ordinariamente 130 kmh, vero ragazzi, ok? I contrassegni rappresentati in figura sono applicati ad alcuni autobus, vero? Sono applicati ad alcuni autobus, alcuni autocari, ok? Mesi vessanti comunque Che vuol dire che possono essere in due, ok? Possono essere in due, quindi non tutte e tre, però possono essere applicati due insieme Quelle di 60, quelle di 100, quelle di 80, qualcosa, vero Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di opposito segnali in tratti di autostrada in particolare Caratteristiche di 150 kmh, vero? Perché se c'è un particolare di caratteristiche ci sono 150 kmh, vero, eh? Il condicente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi Il condicente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi No, falso, dei limiti massimi è falso Anche ci sono minimi, ci sono massimi, ci sono un rispettivo, ma non esclusivamente falso Il limite massimo di velocità per i ciclomotori è di 45 kmh 45 kmh, vero? Vero? O era 50? In una strada a doppio senso di circolazione Se si vede un ballone rotolare sulla carreggiata Bisogna scansarlo anche invadendo la corsia di apposta Ma perché hanno messo queste domande? Sta dicendo quando noi guidiamo una macchina Guidiamo una macchina è una strada a doppio senso di circolazione Se si vede un ballone rotolare sulla carreggiata Bisogna scansarlo anche invadendo la corsia di apposta Falso Se si attraversa ad alta velocità un incrocio avendo diritto di precedenza In caso di incidente non può escludersi un concorso di colpo Vero? Perché dobbiamo sempre essere attenti, ok? Non possiamo escludersi Il limite massimo di velocità sulla strada extraurbana principale È di 70 kmh per l'autovettura con rimorchio per transbordo in parcazione Può essere vero? Il limite massimo di velocità sulla strada extraurbana secondaria è di 90 kmh per autotrene Autotrene Autotrene, è vero, eh? È obbligatorio regolare la velocità nella forte discesa Quando siamo in forte discesa è obbligatorio regolare la velocità No, falso, eh? Era obbligatorio? Su strada extraurbana principale il limite massimo di velocità è di 100 kmh per autotocari di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate 100 kmh, è falso Il condicente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo Le caratteristiche del veicolo? Lo stato della strada e condizioni della malacaratteristica del veicolo? Secondo me è falso, eh? Era vero? Sulla strada extraurbana principale che abbiamo particolari caratteristiche costruttive e di sicurezza è possibile che il limite massimo di velocità sia di 130 130 strada extraurbana principale che abbiamo particolari caratteristiche 130 può essere vero Sulla autostrada a 4 corsie è consentito viaggiare fino a 130 kmh Secondo voi è falso Il condicente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti I limiti massimi consentiti I limiti massimi consentiti Vero perché se la strada è consentita può procedere fino a 90 non può superare quella velocità Sulla autostrada il limite massimo di velocità è 80 kmh per l'autovettura che trenano un rimorchio per il trasporto a cavalli 80 Vero? Il limite Allora qua Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è 110 No, è 100, ok? Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3.5 tonnellate sulla strada extraurbane principali è 80 kmh Falso Il condicente deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo da raggiungere perché è falso Il condicente deve regolare la velocità in relazione al carico del veicolo in relazione al carico Vero perché se c'è carico e mal messo dobbiamo Il limite massimo di velocità sulle auto strade è di ordinariamente 130 kmh per i motocicli Vero? Si deve in particolare regolare la velocità se si incontra sulla strada il segnale di veicolo fermo triangolo mobile di pericolo Vero perché se noi vediamo un segnale di triangolo di pericolo dobbiamo regolare la velocità È obbligatorio regolare la velocità solo in presenza degli agenti del traffico perché noi dobbiamo regolare la velocità in certi casi, non solo In un centro abitato se si vede un ballone rotolare sulla carregiata bisogna diminuire subito la velocità Subito la velocità Vero perché puoi essere un bambino È obbligatorio regolare la velocità in prossimità della scuola Quanto c'è davanti di noi di scuola dobbiamo regolare la velocità Vero? Abbiamo finito ragazzi, abbiamo spagliato 3 però non fa niente perché se io spaglio voi non spagliate Adesso vi faccio vedere quelle che abbiamo dato la risposta corretta e quelle che abbiamo spagliato Vedete abbiamo spagliato 3 ragazzi ok? Non fa niente però vi faccio vedere piano piano così tutte le risposte le vedrete qua Dopodiché vi faccio vedere è obbligatorio regolare la velocità nella forte discesa Era vero ok? Nel rispetto dei limiti massimi e minimi è obbligo del condicente regolare la velocità in modo che è tenuta presente la propria condizione psicofisica La caratteristica e lo stato del carico del veicolo e le condizioni della strada Trafico, condizioni atmosferiche, visibili eccetera eccetera Si è evitata in ogni particolare In ogni pericolo Per la sicurezza Vediamo questo qua abbiamo dato Il condicente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche Era vero? Abbiamo messo falso? Sulla strada extraurbane principale che abbiano particolari caratteristiche costruttive Di sicurezza è possibile che il limite massimo di velocità è di 130 km Sulla strada extraurbane principale che abbiano particolari caratteristiche costruttive E di sicurezza è possibile che il limite massimo di velocità sia di 130 km Leggiamo Salva diversa segnalazione il limite massimo di velocità Consentito sulla strada extraurbane principale è 110 km Ok Il resto siamo a posti Ciao ciao ragazzi alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti